Ciao Taranto, sono Melania Lobarco, io sono Tarantina. Anche voi lo siete? Come? Come? Ed ecco l'urlo di Taranto. A te la parola Vanni, Ninni. Grazie Taranto. È da tanto che aspettiamo questo momento. Questa città reclama dignità, reclama voglia di vivere. Ci abbiamo pensato a lungo. Con Luigi abbiamo pensato da tanti mesi fa, e lui più di tutti con venti anni di lotta in questo territorio, di fare qualcosa di concreto. Come tanti di voi qui presenti stasera, abbiamo capito che c'è solo un modo per farlo. Riprendere in mano questa città. Non lasciarla più sotto il gioco di Roma, dei soliti partiti, tutti partiti, dal centro-destra al centro-sinistra, al sopra, al sotto, ai 5 stelle. Tutti quanti non vogliono altro che sacrificare questa città, questo territorio e i suoi abitanti. C'è solo un modo per riprendersi la libertà. Quello di avere un sindaco che va a battere i pugni sul tavolo a Roma, a Bari, anche in Europa, che reclama i diritti di questa popolazione che è al suo fianco e che non la tradisce e non la tradirà mai. È un momento importante. Continuiamo spesso a sentirci dire se chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare, perché l'unico modo per far rinascere Taranto è la chiusura dell'Ilva. Io invito tutti a farsi questa domanda. Se continua da rimanere aperta l'Ilva, dove continuiamo a vivere, dove potranno vivere i nostri figli, i nostri nipoti, costretti da decenni ad andare via da questa meravigliosa città, un territorio strepitoso, meraviglioso, stuprato dalla grande industria e da chi a livello nazionale ha sempre fatto in modo che venisse calpestata la Costituzione. Ma adesso c'è la possibilità di non scegliere il meno peggio, come ci è sempre stato detto, sia a livello regionale che a livello comunale. C'è la possibilità di scegliere il meglio per questa città. C'è la possibilità di scegliere chi questa città la farà rinascere, come insieme a tutti quanti noi sarà il sindaco della città, ci sarà la partecipazione attiva di questa cittadinanza per la prima volta. E c'è solo un uomo che lo può fare, un uomo che lo conosciamo tutti. Luigi Abbate. Buonasera Taranto, grazie per essere qui. A differenza degli altri candidati ho deciso di affrontare la piazza, perché nella mia vita mi è sempre piaciuto navigare a mare aperto. Non nascondermi come hanno fatto Musillo, come ha fatto Melucci, come ha fatto Battista nei comitati, nelle sale conferenza degli alberghi. A me piace guardare in faccia i cittadini, a me piace stringere un patto di onore, di fedeltà, di coerenza, di sincerità nei vostri confronti. Non ho paura del confronto, non ho paura di dire quello che penso dinanzi alla città. Io sono un giornalista, la mia attività giornalistica è arrivata alla durata di 21 anni. Credetemi, in tutto questo periodo ho denunciato i guasti, i disastri ambientali dell'Ilva e non solo. Ho denunciato il malaffare pubblico e privato, ho denunciato i tantissimi casi di invivibilità urbana, ho sempre dato voce a chi non aveva voce. Sono stato un giornalista libero, sono stato un uomo libero, tanto che nel 2014 fui licenziato da Bluestar TV perché mi ero messo contro i riva, mi ero messo contro la politica, mi ero messo contro i poteri forti per difendere Taranto, per difendere i tarantini, per gridare il sacrosanto diritto alla vita di Taranto. In quel 2014 soffri tanto ma non mi arresi, creai un'impresa tuttoresistente, sana e vitale, un'impresa di comunicazione, Luigi Abate Production e Communication, per essere libero come l'aria, per poter sempre dire quello che pensavo. Perché sapete come va la politica oggi? Il politico di turno chiama l'editore e dice sai quel giornalista mi sta dando fastidio, sai poi ti aiuto, sai io sto in regione, sto in Parlamento, sto qui, sto lì, ti posso dare una mano? Chiudi gli occhi. Beh, questo capitò anche a me e ho deciso di essere libero, ma dopo 21 anni di attività giornalistica contro tutto e tutti, sempre e comunque dalla parte del cittadino, mi rendevo conto che finivo col ripetere ogni volta le stesse cose, nel senso che denunciavo i guasti ambientali, denunciavo l'ilva criminale d'assassina, denunciavo i tantissimi casi di degrado urbano e sembrava quasi che tutti i miei servizi potessero essere in fotocopia, perché le cose non cambiavano. E allora a questo punto mi sono trovato dinanzi ad un'alternativa, ho detto o a questo punto piego la testa, o me ne vado da Taranto, o reagisco, mi candido, perché voglio diventare il sindaco di questa città per prendere in mano questa città, per cercare di svegliare le coscienze, per gridare il sacrosanto diritto alla vita. Vedete, come si fa a parlare di vita a Taranto, come si fa a parlare di turismo a Taranto, quando poi un report delle Nazioni Unite pone Taranto tra le tre città più inquinate al mondo, come si fa a parlare di turismo, come si fa a parlare di diritto alla vita in questa città. In questo incontro di stasera io non voglio solo criticare gli avversari politici, sarebbe molto ma molto facile, peraltro stiamo parlando del nulla cosmico, del nulla assoluto, di gente che fa solo corse verso le poltrone, ma voglio illustrarvi anche il mio programma. Io parlo di chiusura dell'Ilva senza sé e senza ma, e lo dico senza tema dismentita, perché quella fabbrica uccide, uccide all'interno ed uccide all'esterno. Ho sul palco, qui a fianco a me, i genitori del povero Angelo Fuggiano. Nel 2018 un colpo di fune, lui era di spalle, sbalzò il povero figliolo giù dalla gru, comportando questo tragico evento, la morte di un ragazzo, di un giovane, di 27 anni. Questa è una fabbrica assassina, questa è una fabbrica assassina che uccide dentro ed uccide fuori, va chiusa, senza sé e senza ma. Una fabbrica che uccide con la complicità delle istituzioni. Dove stanno le ordinanze di chiusura? Ex sindaco Melucci, tu hai fatto un'ordinanza che non aveva né capo né coda. Avresti dovuto fare mille ordinanze per ogni sforamento. Te ne devi andare a casa, te ne devi tornare nella tua crispiano, perché non sei tarantino. Taranto e tarantini! E in questo quadro la Regione, il Presidente Emiliano, il Governatore Emiliano ha detto signori cari, dovete aspettare la decarbonizzazione e dovete pazientare almeno altri dieci anni. Cosa significa questo, caro Emiliano? Giù le mani da Taranto! Altri dieci anni significa dieci anni di tumori, di morti all'interno e all'esterno dello stabilimento. Andate a vedere il reparto oncologico, andate a vedere le sedute di chemioterapia, di radioterapia e vi renderete conto. Quando qualcuno dice ma se l'ILVA chiude dove andiamo a mangiare? La risposta è molto semplice. Ci sono trent'anni, dico trent'anni di lavori per chi oggi lavora all'interno dello stabilimento, è come dipendente diretto di Acciaierie d'Italia, è come dipendente dell'appalto, dell'indotto. Trent'anni di lavoro. Domanda, ma scusate potrebbe dirmi qualcuno, è chi ci mette i soldi per pagare appunto per trent'anni lavoratori? Lo Stato, sì, lo Stato, perché lo Stato ogni mese a fondo perduto getta, getta, strappa come fossero coriandoli 50 milioni di euro, 50 milioni di euro per 12 mesi, sono 600 milioni! Quante bocche sfameremmo? Quanti bambini non sarebbero ammalati di cancro? Quante persone non sarebbero sepolte al San Brunone? Quante mamme, quanti papà non piangerebbero i propri figli? Questa è la risposta che dobbiamo dare a Taranto e che il signor Melucci non vuole dare, altrimenti avrebbe fatto mille ordinanze di chiusura. Io da sindaco le farò uno dietro l'altra e voglio vedere cosa farà lo Stato a botta di decreti, voglio vedere che cosa dovranno fare, cosa dovrà fare lo Stato, i vari ministri, verranno a piangere avanti e dietro a Taranto, non ci sarà salvezza per nessuno, perché fino a prova contraria esiste l'articolo 32 della Costituzione che parla di diritto alla salute e fino a prova contraria Taranto non è stata esentata dal diritto, dal godere del diritto alla vita, del diritto alla salute. Questo è il quadro di Taranto, perché quando l'ordinanza dell'ex sindaco Melucci è stata rigettata, il Consiglio di Stato è stato chiaro, caro sindaco ha detto in buona sostanza, tu hai evidenziato tre punti che erano di poca importanza, ben diverse erano le ragioni del Tar, con le quali ragioni le lagnanze di Arcelor Mittal, dell'industria assassina sarebbero state completamente cancellate e ribaltate. E allora vivere di cosa si potrebbe dire? Vivere di risorse naturali, vivere di mare, vivere di turismo, vivere di economia del mare, quell'economia del mare che ruota intorno alla maricultura, alla piscicultura, a ogni tipo di sfruttamento del mare, alla mitiricultura, sono tanti i mitiricoltori presenti qui in questa piazza. Ed è molto significativo che nella mia lista ci siano dipendenti di acciaierie d'Italia, dipendenti dell'indotto e persone che hanno preso l'incentivo e hanno deciso di scegliere di vivere la vita attraverso la risorsa mare, investendo nel settore della mitiricoltura. Da un lato questo, dall'altro la valorizzazione del patrimonio culturale. Taranto è la capitale della Magna Grecia, basta fare una serie di lavori e vedete cosa esce dal suolo e dal sottosuolo tarantino, l'immenso patrimonio archeologico. Di questo dovremmo vivere, dovremmo vivere come tutte le altre città italiane. Pensate un po', noi abbiamo a pochi passi da qui, abbiamo piazza coperta, abbiamo un parcheggio, abbiamo l'asfalto, al di sotto di questo parcheggio e di questo asfalto c'è la ricchezza, c'è un anfiteatro. Solo in questa città non si riesce a riportarlo alla luce. Andate a Catania, andate a Piazza Stesicolo e vedete una stessa situazione però con un anfiteatro riportato alla luce. E allora risorse naturali e cultura. Io voglio dire alcune cose relativamente ai candidati sindaco. A me non piace criticare, però a me non piace neanche che voi cittadini siate presi per i fondelli, perché vi stanno prendendo per i fondelli dal primo all'ultimo. Incominciamo dall'ex sindaco Melucci. L'ex sindaco Melucci non ha mai voluto l'Ilva chiusa. L'ex sindaco Melucci è un industrialista convinto, convintissimo. Alcuni anni fa in un'intervista mi disse, quando io gli dissi ma chiudiamo questa maledetta Ilva, rispose ma se lei vuole chiudere l'Ilva evidentemente vuole ridurre la città a 50.000 abitanti, dissi sì certo a 50.000 abitanti arriveremo per i tanti morti che ci saranno. Abbiamo l'ex sindaco Melucci che in un'altra intervista, quando gli parlai dell'aeroporto, perché è assurdo che noi abbiamo un aeroporto bello e pronto, quello appunto l'arlotta di Grottaglie, e io dissi ma è inammissibile che non ci siano voli civili, voli passeggeri come ci sono in altre realtà pugliesi. Penso a Brindisi, penso a Bari, fra poco anche un diretto per Milano dal Gino Lissa di Foggia. E lui rispose mentre era presente De Caro, si avvicinò e disse direttore, direttore faccia rispondere me. Dissi, mi scusi, almeno prima mi faccia fare la domanda e poi dà la risposta. Dice, ma non è necessario che chiudiamo, che apriamo ai voli passeggeri, perché tanto ci sono Brindisi e c'è Bari. Si può andare a Bari e a Brindisi con le navette. Signori, ma questo è il sindaco di Taranto o il sindaco di Brindisi o il sindaco di Bari? Melucci, detto alla Tarantina Maniera. Ma tu, Cuccioveco a Sampdoria, con chi vai? Cosa rappresenti? Non rappresenti Taranto? Perché un ex sindaco, un sindaco che dice queste cose dimostra di non amare il proprio territorio. Perché un sindaco dovrebbe difendere con le unghie e con i denti il territorio tarantino. Non tarpare le ali allo sviluppo, perché non si può fare turismo senza infrastrutture, non si può fare turismo senza aeroporto. L'ex sindaco Melucci si vanta, parla, parla e parla. Ha fatto un libricino, un opuscolo, le cento cose che ho fatto. E io mi sono incuriosito a sfogliarle, mi sono incuriosito a guardarle l'una dietro l'altra. A un certo punto leggo, ho riqualificato la Villa Peripato. La Villa Peripato è ridotta a uno stato di abbandono che voi non ne avete idea, incominciando dalle giostrine per i bambini, per andare a finire allo spiazzo, alla pista appunto dove, battonata, dove dovrebbero giocare i bambini e i mattoni sono completamente divelti, pericolosissimi, per non parlare poi della piscina, l'ex piscina che è ora ridotta a una latrina, scusatemi l'espressione. E quest'uomo vive di fantasia, vive di chiacchiere, vi propina chiacchiere dalla mattina alla sera. Pensate, ha detto che ha riqualificato il piazzale Bestat e io sono stato chiamato da molti cittadini e sono andato a vedere il piazzale Bestat. Mattoni pericolosissimi, uno più rotto dell'altro, grate completamente sprofondate nelle quali ci entra una gamba. Questo signore che è più bugiardo di Pinocchio va a dire che ha riqualificato il piazzale Bestat. Ma ci stiamo rendendo conto di chi stiamo parlando? Ma ci stiamo rendendo conto che il sindaco Menucci ha messo i parcheggi a pagamento in quasi tutta la città? Ha ucciso il commercio di Taranto! Qui non stiamo a Monte Carlo, dove si può navigare nello sfarzo, dove si può navigare nello sfarzo, anche nella fascia pomeridiana, dall'una e mezza alle quattro e mezza, dalle tredici e trenta alle sedici e trenta. Ha messo i parcheggi a pagamento. La stazione di Taranto, che è ridotta a un letamaio, l'unica stazione d'Italia che non ha un bar. Una stazione nella quale piove, l'altro giorno un po' di pioggia, nulla più, una stazione completamente allagata. Ora è chiaro che la responsabilità è di ferrovie dello Stato, ma tu sindaco che fai? Non batti i pugni? Se dici davvero di amare il turismo, bene! Il biglietto da visita, mi suggerisce giustamente Vanni. E se questo è il biglietto da visita, e se questo è il buongiorno a Taranto è notte fonda. Questa è la realtà incredibile che noi viviamo a Taranto. E in quella fogna di stazione, in quella fogna di piazzale a distante la stazione, cari amici, c'è il parcheggio a pagamento, 24 ore su 24, vogliono spennare Taranto! Si ricordano di voi Tarantini quando arrivano le elezioni, quando ci sono da pagare le tasse? Taranto sveglia! Taranto ribellati! Taranto e Tarantini! Abbiamo una città che è stata commissariata da cinque anni a questa parte, è commissariata da Emiliano, Emiliano giù le mani da Taranto. Quando è stato eletto Melucci, la prima cosa che ha fatto Emiliano gli ha appioppato le guardie del corpo, il vice sindaco, che era barese, l'assessore ai lavori pubblici barese, uomini suoi messi da Emiliano per controllare Melucci. Emiliano è diventato il padrone di Taranto e il signor Melucci, pur di trattenere la poltrona, dice signor sì al signor Emiliano, anche se poi bisogna capire i doppi giochi e l'equilibrismo di Emiliano, perché voi siete proprio sicuri che Emiliano appoggi Melucci o Emiliano strizza anche l'occhio a Musillo e strizza l'occhio a Gugliotti, perché ricordate che alla provincia il signor Emiliano appoggiò Gugliotti, non appoggiò Melucci, è un altro doppio giochista, il mangiafuoco di Puglia, lo zar di Puglia. Come sindaco Emiliano verrà poche volte a Taranto, gli faremo passare la voglia di venire a Taranto, perché noi urleremo Taranto ai Tarantini, vogliamo ridare questa città a noi Tarantini, dopo che ci è stata scippata in tutti i modi. Ho menzionato poco fa Musillo, Musillo è un ibrido politicamente parlando, Musillo è l'ennesimo saltimbanco della politica, pensate un po', un uomo Musillo, segretario provinciale del PD, comunista dichiarato che diventa il candidato sindaco del centro-destra, della Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia. Musillo, la tua coerenza, ammesso che ci sia mai stata, dove è andata a finire? Musillo, rispondi, saltimbanco della politica! Ora Musillo gira per la città, è andato a trovare i mitilicoltori come è andato a trovare i mitilicoltori il signor Melucci, se ne sono sempre fregati di voi per tutta la vita, ora improvvisamente vi sono diventati improvvisamente dicevo amici. Ora Musillo vuole portare avanti la politica dell'ascolto. Musillo è stato quattro anni e mezzo in maggioranza nell'amministrazione Melucci, il signor Musillo aveva i suoi assessori, il suo assessore, aveva i suoi uomini nelle società partecipate, la cugina del signor Musillo, Deborah Cinquepalmi, era assessore di Melucci. Come fai a dire, Musillo, questo è il degrado, questa è la città del nulla? Se questa città, se l'amministrazione Melucci è stata disastrosa, e lo è stata, sei stato disastroso anche tu, perché tu hai governato con Melucci, tu non ti puoi rifare una dignità politica. Abbiamo avuto l'amministrazione Melucci-Musillo e Musillo-Melucci e siamo a due. Andiamo al terzo, Massimo Battista, candidato di una città per cambiare Taranto. Anche lui ha fatto molti salti della quaglia. Era un delegato della FIOM CGL, un uomo di sinistra. Poi è diventato un libero e pensante, ricordate la PECAR dei liberi e pensanti, proprio in questa piazza. E poi dopo ancora è diventato 5 Stelle, ha iniziato a promettere l'Ilva chiusa, raccontando i 5 Stelle favole, perché non avevano gli elementi, non avevano la serietà, non avevano la professionalità di portare avanti un progetto del genere. A un certo punto poi Battista cosa fa? Alle elezioni del Presidente della provincia non si sa chi ha votato, probabilmente tra Melucci, col quale stava in guerra e sta in guerra e Gugliotti ha votato Gugliotti, perché? Perché c'erano 32 schede, tutte 32 del comune di Taranto sono state votate e quindi non c'era nessuna scheda nulla o bianca. Quindi evidentemente Battista ha votato o Melucci o Gugliotti, non avendo votato per logica Melucci, ha votato Gugliotti di centrodestra un ulteriore salto e ora crea una città per cambiare, Taranto città per cambiare, ma non è ancora finita perché a voce proclama la chiusura dell'Ilva senza se e senza ma, le frasi mie ripetute, va bene dico a questo punto, beh vengano le persone che vogliono chiudere l'Ilva. Cosa strana, cosa strana, presenta il programma sintetizzato in alcuni punti fondamentali e lo pubblica proprio due o tre giorni fa sulla pagina del movimento Una città per cambiare. Bene, questo signore a un certo punto di questo programma non compare più la parola chiusura dell'Ilva, scompare la parola chiusura dell'ex Ilva. Vorrei capire da te Massimo Battista che cosa ne è stato di questa chiusura tanto strombazzata, come mai non c'è più la parola chiusura nel tuo programma? Forse avevi paura di metterti contro i dipendenti? E io lo ribadisco, io voglio essere amico dei dipendenti diretti di Acciaieri d'Italia e dell'Indotto, voglio unire questa città, voglio unire operai e ambientalisti perché chiudendo quella fabbrica si ridà vita, respiro a Taranto ma si dà anche dignità ai lavoratori dell'ex Ilva perché vedete noi abbiamo 10.400 dipendenti di Acciaierie d'Italia, 1.700-1.800 Ilva in AS, 2.500 proprio ora di questi giorni in cassa integrazione, arriviamo a 4.300, 10.000 meno 4.300 rimangono 6.000 persone, tutti gli altri in cassa integrazione a circa 700-800 euro al mese, che dire poi dei dipendenti dell'Indotto, moltissime ditte non ricevono soldi da Acciaierie d'Italia e pertanto non possono pagare i dipendenti e parliamo di dipendenti, famiglie che non vengono pagati, non percepiscono stipendio da 3-4 mesi, domanda e se chiude l'Ilva dove andiamo a mangiare? La domanda mia è questa, e se l'Ilva rimane aperta e questa gente non percepisce lo stipendio da 4 mesi? Scusate, ditemi di grazia, dove vanno a mangiare queste persone? Questo è il ragionamento che vi voglio fare in termini concreti per far capire che quella fabbrica, oltre a produrre morte, oltre a produrre disperazione, produce miseria, miseria e miseria, perché mi dovete dire come fa un padre di famiglia, un monoreddito, con figli a carico, ad andare avanti con 700 euro al mese! E allora Battista non ha voluto toccare più, non ha voluto toccare questa nota dolente a suo dire degli operai della chiusura dell'Exilva. Poi mi domando anche, vorrei sapere da Battista dove era lui da consigliere comunale nelle varie manifestazioni, per esempio proprio degli degli Exilva in AS. Io non l'ho mai visto ad una vostra manifestazione, signori Exilva in AS. Non credo proprio che lo possiate votare, perché non vi ha mai rappresentato quando invece da consigliere comunale, soprattutto perché era di opposizione, avrebbe dovuto battere i pugni, avrebbe dovuto alzare la voce e non lo ha mai fatto. E procedendo con gli altri candidati ne rimane un ultimo, un certo filograna, se non erro, quest'altro da dove è uscito, Autonomi e Partite IVA. Ho scoperto che un ex senatore, che non c'entra nulla con Taranto, pare che venga da Casarano, pensate un po', un ex senatore di Forza Italia, trombato politicamente, che si presenta e dice voglio fare il sindaco di Taranto. Ma cosa? Taranto è diventata la città dei forestieri? Ecco il mio urlo, Taranto e Tarantini. Ma voglio dire qualche altra cosa relativamente alla stampa. Beh, a quale stampa? Beh, mi riferisco a due testate in particolare, perché io sono abituato a fare nomi e cognomi. Mi riferisco a Buonasera Taranto, diretta da Enzo Ferrari e mi riferisco al quotidiano di Taranto, al suo caporedattore Giovanni Camarda. Io mi vorrei tanto sapere, ritengo che la vostra sia una informazione certamente di parte, è un'informazione di parte, perché non è possibile che si parli di melucci dalla mattina fino alla sera, si parli in abbondanza di Musillo e della mia candidatura di Taranto senza Ilva, che stando alle previsioni stiamo tra il 47 e il 53 per cento. Bene, al di là di queste previsioni, che possono essere giuste, sbagliate, quello che sia, dovreste imparare a dare opportunità, pari opportunità a tutti. Oggi, ieri, anzi, ho mandato il comunicato stampa nel quale annunciavo il comizio, nel quale presentavo sinteticamente i punti del programma. Signori cari, un trafiletto, dieci righe, addirittura il quotidiano cosa fa? Scrive Abate con una B, un rigo e quattro righe. Ma io dico soltanto una cosa, che ho fatto il giornalista e sono stato sempre un uomo libero. Ho dato spazio a tutti, ho dato spazio ai grandi partiti come ho dato spazio ai piccoli partiti. Avete dimostrato, signori del quotidiano e di Buonasera Taranto, di essere di parte, perché essere di parte significa dare spazio a certe forze politiche, anziché ad altre. Pensate un po', Buonasera Taranto, cosa fa? C'è un'intervista fatta a Melucci, unico candidato sindaco che ha ricevuto un paginone tanto di intervista. E l'intervista chi gliela fa? Alfredo Venturini. E chi è Alfredo Venturini? Il coordinatore di Taranto Mediterranea, una delle liste a sostegno di Melucci. Scusate, ma questo è giornalismo? O significa fare politica anziché fare giornalismo? Me lo spieghi, me lo spieghino i colleghi di Taranto Buonasera. Lo voglio proprio sapere da te, Enzo Ferrari. Intervista di Venturini a Melucci. E quando io chiedo ad Enzo Ferrari, ma spiegami Enzo, perché questo? Quando ci sarà spazio per gli altri candidati ci sarà anche spazio a te. Ma scusami, tu hai dato spazio a Melucci? Sì, Melucci è un'altra cosa. Come un'altra cosa? Melucci è un candidato sindaco, come tutti gli altri. Melucci è l'ex sindaco di Taranto, che non tornerà più a Palazzo di Città. Altro che Melucci si atteggia sindaco. Va girando nella città, va girando nei cantieri, quando tu non puoi entrare nei cantieri. Me l'ha detto esplicitamente il commissario prefettizio. Ci sono ragioni di sicurezza per le quali non si può entrare nei cantieri. Questo è l'aspetto rovinoso. Ma questi giornali sono evidentemente di parte. Io sapete cosa vi dico? Ognuno è libero di fare quello che crede, qualunque cosa creda. Io questi giornali non li leggo. Ognuno di voi può leggerli o non leggerli e quando un giornale, quando una cosa, quando dei fogli di carta non mi servono, io faccio questo! Questi giornali li strappo e non voglio buttarli a terra perché ho rispetto dell'ambiente. Ma quando si fa una cosa del genere significa calpestare la libertà, significa calpestare l'informazione. E lo dico perché sono un iscritto all'ordine. In questa veste sto parlando da candidato e non da giornalista. ma scusatemi, si può limitare una forza politica a dieci righe e non per un giorno, non per un giorno, sono tre mesi! Tre mesi! Questa è una città che va rivoltata come un calzino, senza sé e senza ma. Ci sono tante proposte che vi vengono fatte, proposte le più schifose, perché si va e si dice queste sono 20 euro, quanti voti mi porti? 20, 50 euro, quello che sia. Poi esistono ancora le buste, il pacco della spesa, poi esistono i buoni benzina, i buoni carburante. Peccato che per come è arrivato alle stelle il carburante tu non ti fai neanche il giro dell'isolato con quella 30-40 euro di buono benzina che ti danno. Così come col pacco della spesa che cosa risolvi? Quanto puoi mangiare? 3-4 giorni e poi per altri 5 anni dovrai maledire quelli che ti hanno comprato e non avrai più il coraggio di guardare in faccia i tuoi figli, perché ti mancherà la dignità, perché dovrai spaccare tutti gli specchi della casa, perché ti vergognerai davanti a te stesso. Vedete il mio è un grido disperato, ho voluto affrontare questa piazza, sarebbe stato molto ma molto più facile, come dicevo all'inizio del mio discorso, rinchiudermi in una sala conferenze e parlare, magari a Salina dove il caffè al banco costa 2,50 euro, ma è una battuta la mia tutto qui. Sarebbe stato molto più facile, ho voluto affrontare la città, vi ringrazio per essere venuti perché certamente è una serata fredda e soprattutto la gente più anziana è giusto che ci andasse con i piedi di piombo prima di stare per strada, stare nelle piazze. Però è bello vedere che c'è stata la vostra partecipazione, c'è stato il vostro impegno. Noi stiamo facendo dirette social, perché noi vedete stiamo andando avanti con i nostri mezzi, il sottoscritto sta autofinanziando la propria campagna elettorale. Io vorrei sapere, senza alcuna offesa, tutti gli altri candidati sindaco che stanno buttando i 6 per 3, uno dopo l'altro. Domanda, ma siete così ricchi da spendere tanti soldi? O qualche babbo natale vi finanzia? Anche candidati consiglieri? E vorrei sapere, queste persone che vi finanziano vorremmo conoscere i nomi e cognomi, giusto per capire, giusto per sapere. Io vado avanti per la mia strada, con i miei mezzi, io non ho finanziatori, io sono come un gatto che si mangia il topolino, dietro di me non c'è nessun surgicchio, inteso come topolino, con la S minuscola, giusto per capirci e non per per creare equivoci, ma siamo persone libere, per cui io sto facendo una campagna elettorale economicamente molto ma molto misurata e moderata, perché non intendo né indebitarmi e né andare a chiedere soldi a qualche sponsor, a qualche padrino, padrone, rispetto al quale poi dovrei diventare il suo cagnolino da passeggio. Meglio essere cani randaggi, cani di strada come Max, che essere cani che devono stare in casa e che devono chiedere al proprio padrone scodinzolando se possono andare giù a fare i propri bisogni. Questo è lo spirito della libertà, questo è il messaggio che rivolgo alla città di Taranto. Mi rendo conto che è una sfida difficilissima, ma a me piacciono le sfide difficili, a me piace guardare in faccia la realtà. Nessuno può speculare. So cosa significa a Taranto la sofferenza, so cosa significa ammalarsi di cancro. Mio padre è una delle tante vittime di cancro. Mio padre meno di due anni fa morì per un sarcoma. Il sarcoma è il tumore dei tumori, il tumore maligno peggiore, più cattivo, verso il quale non si riesce a resistere, che ti punisce senza misericordia. E so cosa significa la sofferenza. Proprio per questo quando qualcuno ha detto, qualche carogna ha detto tu stai speculando sui malati, evidentemente non conosci la mia storia. Non conosci la mia storia familiare, ma non conosci neanche evidentemente i miei 21 anni di battaglie. Per Taranto ho sempre lottato, non ho bisogno di slogan. Ci sono 21 anni di battaglie, ci sono sulla mia pelle le ferite della libertà. Per questo vi chiedo il consenso. Viva Taranto, viva i giovani, viva la libertà! Buonasera a tutti, grazie per essere stati qui e quando andrete a votare pensate ai vostri figli, pensate alle vostre coscienze e sappiate scegliere secondo scienza e coscienza. Buonasera a tutti. Grazie!